in difesa Rosi, Ghisermo Burdisso, Loria e Castellini. Insomma, indicazioni ben precise, lo abbiamo detto, 0-0 fino alla fine, a decidere il golden goal di Francesco Totti, allenamento durato circa un'ora e mezza. Portieri poco poco più spostati, poco poco poco. Dove sto io? In giro così marchi, vieni meglio. Grazie a tutti.